Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E a sorpresa benvenuti in un nuovo video Esatto, oggi parliamo dell'uscita della Steam Deck Holland Ma prima di questo ragazzi, ricordatevi Il 17 incominciano le offerte del Black Friday Offerte del Black Friday che potete comodamente trovare su tutti i nostri canali social Oltre che YouTube, dove seguiremo sicuramente tutte le offerte qui da mezzanotte in poi per tutta la settimana No, adesso quanti sono? 10, 11, 15 giorni? 82 giorni E trovate tutto ovviamente su JustRackit e Prodigic offerte qua sotto in descrizione Perché dico sorpresa? Perché effettivamente Valve se ne è uscita un po' fuori dal nulla Con appunto questa nuova versione di Steam Deck Che non è una Steam Deck 2 ma appunto una Steam Deck OLED Che è una versione 1.5, una mid-gen di Valve Che appunto porta molte novità alla nuova Steam Deck OLED Quindi non solo il display OLED Ma ovviamente il display è la novità su cui basano anche il nuovo naming della loro nuova macchina E non cambia solo il tipo di pannello ma anche la dimensione Perché si passa da 7 a 7,4 pollici Con un OLED HDR e sembra essere veramente clamoroso come qualità del display Veramente veramente un passavanti magistrale da quello che noi abbiamo definito nella review Uno dei peggiori schermi Il peggiore schermo A quello che potrebbe essere tranquillamente il migliore Uno dei migliori schermi che abbiamo visto su questo tipo di pollici o dispositivi Ma soprattutto risolvendo di fatto la criticità maggiore di Steam Deck Perché era quello che era stato identificato non solo da noi Ma anche da tutti gli altri come il punto più negativo in assoluto della macchina Ma le novità non sono solo quelle Ce ne sono veramente tanto Passando alle novità hardware La CPU è stata migliorata Non a livello di potenza Ma è stato fatto il classico salto mid-gen Succede anche con le console Lo stesso hardware viene aggiornato Perché il processo produttivo appunto diventa più conveniente Passare a un processo produttivo più recente E si mette ad esempio in questo caso un affinamento dei 7 nanometri Quindi un leggero miglioramento Ed è passato ai 6 nanometri La struttura di questo nuovo chip rimane la stessa Uguale Quindi uguale, identico a quello custom che abbiamo conosciuto con Steam Deck nella sua prima versione L'unico custom L'unico custom, esatto Quindi con la solita architettura a 4 core Zen 2 più 8 core RDNA 2 In questo caso il naming diventa Sephiroth, ma sti cazzi È un 6 nanometri, quindi la revisione appunto dei 7 nanometri vecchio Anche se la struttura rimane la stessa Ma cambiano anche le memorie che hanno una frequenza più alta Il che permette di arrivare al 7% circa di performance Più che non è per niente male per un aggiornamento di questo tipo Parlando ancora delle prestazioni Migliora le temperature e tutto Perché la ventola a disposizione di Steam Deck Viene migliorata, ingrandita E quindi permette appunto una dissipazione migliore Quando si dice raffinatezza ventola Esatto E nonostante appunto questo nuovo sistema di dissipazione Abbia un design effettivamente più spesso rispetto al precedente Si sono riusciti a levare dalle balle 30 grammi di peso Che ovviamente su un peso di questo tipo Potreste magari non notarlo Oppure si, dipende molto Però in ogni caso è un'ulteriore revisione Che anche questa era uno dei punti Che erano molto opinabili su questo primo approccio da parte di Valve Perché era un design che non convinceva tutti Alcuni dicevano che era pesante, grossa, ingombrante Quindi alleggerirla ulteriormente Appunto È un ulteriore miglioramento al modello precedente Ma non sono finite qui le novità Esatto Altro punto debole diciamo Di Steam Deck nella sua prima versione Era il Wi-Fi Esatto Che adesso è stato migliorato a livello di connettività Il Wi-Fi 6E È stato migliorato anche il Bluetooth Con il Bluetooth 5.3 Sono stati fatti veramente una quantità di miglioramenti devastanti La macchina ha fatto proprio un salto di livello Impressionante E non siamo ancora arrivati alla parte bella Ma ci arriviamo Perché oltre ad acquisire un nuovo pannello LED Aumentare le dimensioni Aumenta anche la frequenza di refresh E la gestione della frequenza di refresh Da parte di Steam OS Che passa appunto a 90 Hz Con tutta appunto la gestione di Steam OS E l'ottimizzazione che abbiamo in protoconoscere di Steam OS Abbiamo un trackpad e degli speaker migliorati Quindi veramente la macchina è stata proprio ribaltata completamente Ma la cosa bella è che tutte queste migliorie che vi stiamo elencando Sono per la maggior parte punti deboli di Steam Deck Quelli che erano punti meno diciamo forti Di un concetto in primo In una 1.0 di Steam Deck da parte di Valve Quindi sono andati proprio mirati a correggere Tutti quelli che potevano essere dei punti critici E non succede spesso No non succede veramente spesso Oltretutto è stata completamente ridisegnata la line up a livello economico Innanzitutto i modelli attualmente in commercio sono in sconto Perché verranno fatti fuori quasi tutti Ma non solo Perché si introducono di fatto due modelli OLED Due tagli OLED Che sarebbero il 512 e il Tera Che avranno l'SSD più veloce degli M3 di Apple E voi direte Ok sì OLED Aggiungono tutte queste migliorie Si aggiunge un taglio addirittura maggiore di memoria Costerà 200 euro in più No la strategia di prezzo di Valve viene mantenuta comunque tale Il prezzo è uguale Apple Appunti Scrivitelo come si fa Viene aggiornato Raddoppiato lo storage Perché Apple non costa un cazzo lo storage nel 2023 È una cosa che costa di meno di tutti E quindi viene aggiornato un prodotto Mantenendo lo stesso prezzo E questo si chiama Miglioramento Perché è uno stesso prezzo Un prodotto migliore E si chiama miglioramento Se Steam Deck Avesse avuto anche 20% di performance Più 30 Ma fosse costata 1000 euro Era stagnazione Anzi era una merda Era una merda Rimanendo così Migliorando Si chiama miglioramento Apple Così si scrive E così si fa Cacchio Prendiamo Impariamo Da chi sa fare le cose Ma questa non è una workstation Esatto Comunque Apple Indie 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 Tutti Imparate E prima di passare un po' A delle valutazioni Su che cosa cambia Grazie a questa Steam Deck OLED Arriva già da settimana prossima Cioè la potete prenotare Da settimana prossima In particolare dal 16 Quindi è proprio A stretto giro Proprio un fulmine Accelserino Papam Nuova versione Corregge quasi Tutte le cose critiche Aggiunge un taglio di memoria in più Mantiene i prezzi Dopodomani Esatto Anche noi saremo super primi A ordinarla E poi a portarvi La recensione Di questo Di questo modello Ora Passando alle opinioni Che abbiamo noi Di questo dispositivo Ne discutevamo Prima io e lui E' un qualcosa di Positivo Perché ripeto C'è un miglioramento Allo stesso prezzo Non può essere valutato No esatto E quando è così Non si può valutare E' positivo non solo Il prodotto in sé Ma il miglioramento Fatto a livello di settore Quindi la raccolta di feedback E la correzione Mirata degli errori Quello è importante Quello è proprio un'attenzione Vista appunto La community Che dà Che dà i feedback D'altro canto Però Non cambia nulla Non cambia Esattamente nulla Il consumatore E' in dubbio Se comprava una Rogue Alley E' in dubbio Se comprava Una Lenovo Legion E' in dubbio Se comprare Magari altri prodotti La CAN o altro Rimane in dubbio Se comprare Questo dispositivo Perché? Perché quello che faceva Steam Deck Fa questa Di più o nemmeno Sì C'è un'effettiva cosa Che Steam Deck Diventa l'unica A poter fare Che è garantire Una durata Della batteria Superiore alle due ore Che è qualcosa Che appunto Con il suo livello Di potenza Non si riesce a fare Perché anche Gli Z1 Extreme Possono farlo Andare a 9 Watt Ma a 9 Watt Vanno peggio Di Steam Deck E oltretutto Con questa versione E' ulteriormente Migliorato questo paradigma Quindi come detto Anche tante volte Nelle varie recensioni Sia di Steam Deck Sia di Ally Sia di altre handled Che abbiamo provato Non cambia il paradigma Quello che faceva Prima Steam Deck Quindi essere La migliore In rapporto Consumi Durata dalla batteria E prestazioni Rimane uguale Così come rimane uguale Il concetto Che non può andare A sfondare Muri Come quelli Dei AAA Come quelli Di giochi più impegnativi Che richiedono Una potenza Più elevata E quindi Consumi più elevati Cosa che Il chip custom Anche in questa versione Rivista Migliorata Ottimizzata Non può arrivare a fare E oltretutto Ora siamo a quasi Il 2024 Io non credo proprio Questa Steam Deck Appena uscita Possa far andare Ad esempio Pandora O possa far andare Bene alla Wake O possa giocare Bene ai nuovi AAA In uscita L'anno prossimo Credo proprio Sia un problema Strutturale Di questo dispositivo Che oggettivamente Con la nuova uscita E con il miglioramento Diventa il miglior dispositivo Per giocare AAA Diciamo Pre-2022 Passati Esatto Pre-2022 Quindi l'emulazione È Emulazione Non troppo impegnata Quindi magari Non Switch Non PlayStation 3 Non tutta Switch Non tutta Switch Ecco E nella sua nicchia Rimane In questa enorme nicchia Rimane una macchina Devastante Cioè Con quel display Lì veramente Mi viene voglia di metterci E smanettare tanto Non ci sono più scuse Se sei in quella fascia Di utenza Non ci sono più scuse Non hai più la cosa Che ti fa storcere il naso Perché hai una macchina Pulita Perfetta Per quello che devi fare tu Ed è giusto così Il punto è che Stiamo vedendo un pochettino Questo settore crescere Sempre di più E Steam Deck Che ha rappresentato un po' Il trampolino di lancio Anche per tutte le altre Ci aspettavamo già Di vederla in una versione In una veste Completamente nuova Sì Una Steam Deck OLED Così con un 4 nanometri Potenziato E bello Bello carrozzato Rispetto a quelli di adesso E ovvio che sarebbe stato Il prodotto definitivo Avrebbe distrutto Ogni tipo di concorrenza Perché non avrebbe avuto senso Ovvio che quei prezzi Non sarebbero riusciti A mantenerli Però comunque Sarebbe stato un prodotto Che avrebbe spaccato La concorrenza Perché comunque Anche Completo Poi giocare tripla Consumo energetico basso E tutto il resto Qua invece Rimaniamo al paradigma Di prima Perché di fatto Non cambia niente Steam Deck rimane E è ancora migliore Per fare quello Che faceva prima Perché l'abbiamo detto Nella review dell'AI Sono due cose diverse Sì Sono due cose diverse Come la Legion Anche la Legion Adesso è ancora diversa Perché comunque Offre anche cose Di questo tipo Sperimenta Esatto Sperimenta Che sono comunque diverse Ma anche a livello Di semplice processore Di semplice SOC Sono proprio diversi Come dispositivi E quindi Si affacciano a un pubblico A giochi diversi Quindi il mondo Dell'Handed Comunque non viene rivoluzionato Da questa uscita È un prodotto che rivoluziona Valve Che rivoluziona Steam Deck Ma che non sposta il mercato Non sposta il mercato Questo è vero Ma dà un'ulteriore riconferma Di quanto sia fresca E attiva l'attenzione Su questo mercato E su quanto ci sia Voglia di investirci E continuare a Migliorarlo Perché da parte di Valve Già vedere un sequel Di un prodotto Non è una cosa da poco Questo è il mercato Emergente Più forte È un mercato emergente Noi ci abbiamo scommesso Anche fin da subito E lo vedete Ci sta piacendo tantissimo Anche vedere le varie Evoluzioni Seppur piccole Non vediamo l'ora Di vedere le evoluzioni Quelle più grandi Che ci saranno Da qui ai prossimi anni Però di fatto Vedere un miglioramento Del genere Su un'azienda come Valve Su un prodotto Come Steam Deck Significa proprio che Ci stanno puntando E ci punteranno sempre di più Contate che ha fatto 4 milioni di copie Che è un botto E voi dite Come un botto Un cazzo 4 milioni di copie Ragazzi È venduta sul sito di software Perché è venduta sul sito È l'unico hardware Uno dei pochissimi hardware Venduti sul sito di software Senza marketing Con una recensione A Steam Deck 1 Di 4 youtuber Anche qua c'è stato un seeding Per questa review dell'OLED Più grande Ma anche lì Solo America Solo America Per cui comunque Oltretutto vorrei dire C'è molto limitata Nell'approccio Per la maggior parte Degli utenti Perché si parla di Steam Quindi a meno che Non vogliate Non siate più avanzati Ci vogliate smanettare È Steam Quindi anche quello È un limite Volendo vedere Cioè la Wake 2 Vabbè Non ci puoi neanche giocare Ad esempio Quindi 4 milioni Non sono veramente pochi Per un prodotto del genere Insomma ragazzi Una figata Però Io Non lo so Mi fermerei un attimo Anche perché ripeto La stessa cosa che abbiamo detto Di Apple Nel video di ieri Cioè Che comunque Escono i 15.000 Ad Intel Il mese prossimo E voi dite Cosa c'entra? C'entra Perché comunque Sono dispositivi Che dovrebbero migliorare L'efficienza energetica E Intel Sicuramente Ha intenzione Di entrare In questo mercato qua Con un'efficienza energetica Migliore Sui nuovi prodotti Quindi Dobbiamo vedere un po' Come si posiziona Per cui Rischia di essere Un prodotto così Uscito oggi Non lo so Un po' Contando che poi Verosimilmente Non riceverà Aggiornamenti a stretto giro No assolutamente no Una versione 2 Non ce l'aspettiamo L'anno prossimo E fra un anno e mezzo Due a questo punto Per cui Tutto quello Che abbiamo anche fatto Come discorsi Negli ultimi giorni Settimane Con tutto quello Che sta succedendo All'interno del mercato Mobile Non mobile ARM Eccetera eccetera Ovviamente si traduce Anche qui Perché Intel Nel momento in cui Riesce a migliorare L'efficienza Integrare meglio La loro grafica ARC A livello di un SOC Magari di un chip Più piccolo Qualcosa che possa Fittare In un dispositivo Del genere Chi glielo vieda Di buttarsi Intel Come quello Che arriverà Con Nvidia Come tutto quello Che abbiamo trattato In questi giorni Ho pensato Un handheld Con XLIT Ad esempio Quindi Fighissimo Ma io da consumatore Rimarrei un po' Allerta Noi ovviamente Fra poco Vedrete anche La recensione di questa Della Legion Go Per cui veramente C'è tanta carne al fuoco In questo settore E noi siamo Le persone più felici Del mondo Perché abbiamo Questo tipo di approccio Al pc gaming Che dimostra appunto Quanto è figo il pc gaming Perché Non è più veramente Come dicevamo Solo pcone De desktop Alla schiena Tutto questo è pc gaming Ed è una figata Perché non vediamo l'ora Di affrontare questi dispositivi Di vederle Di tirarle fuori Delle conclusioni Interessantissime Ma soprattutto C'è anche tanto fermento È una Delle ultime Diciamo Cose Che fanno Anche parlare Tanto alla community Fanno discutere Creano hype Eccetera eccetera Quindi ci piacerebbe Anche vedere un po' Cosa ne pensate voi Come la state vivendo In questo periodo Cosa ne pensate Di questo aggiornamento Di Steam Deck E tutto quello che volete Parliamone qua sotto Ricordatevi ragazzi Che il 17 Iniziano le offerte Del Black Friday Quindi seguiteci Su Prodicico Offerte E Prezzone Qua sotto in descrizione E che il 16 Potete comprare l'OLED Esatto Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi Grazie a tutti